Allora, le monarchie nazionali hanno delle caratteristiche, cioè si passa da un livello in cui il re dava il vassallo e poi il vassallo a sua volta a diversi beneficiari il potere ad un sistema in cui ci sono dei burocrati che hanno determinati compiti, ad esempio riscuotere le tasse, organizzare l'esercito e gestire gli aspetti finanziari e amministrativi. Quindi, la Spagna è una delle tre monarchie nazionali insieme a Spagna e Inghilterra e che cosa succede in Spagna? Innanzitutto si unifica perché Isabella di Castiglia si sposa con Pietro d'Aragona e c'è anche la cacciata dell'ultimo emirato musulmano che è a Granada. Inoltre, la Spagna entra in possesso dell'Italia meridionale attraverso questo matrimonio. Quindi, quando avviene questa riunificazione della Spagna, possiamo dire che le tre principali monarchie nazionali erano Francia, Spagna e Inghilterra. In Italia, invece, ci sono le signorie che diventano poi degli stati perché la signoria via via amplia i propri confini. E così facendo, possiamo vedere che in Italia c'è una situazione molto frammentata. Allora, c'è il Ducato di Milano, il Ducato di Savoia, il Piemonte, la Repubblica di Venezia, poi la Repubblica di Genova, Firenze, il Comune di Firenze, lo Stato della Chiesa e poi c'è il Regno di Napoli. Che è in mano alla Spagna, dove c'è tutta la parte della Campania e della Puglia, della Sicilia, tutta l'Italia meridionale. Nel 1516, poi, la Germania, che si chiamava all'epoca Sacro Romano Impero Germanico, che cosa fa? Attraverso dei matrimoni combinati, come avveniva all'epoca, succede che Carlo V eredita il re di Spagna e di conseguenza l'Italia meridionale e inoltre aveva anche delle colonie in America, che erano state prese dalla Spagna e dal Portogallo. Quindi si diceva che Carlo V aveva un impero che non tramontava mai. Perché? Perché, siccome il sole sorge a est e tramonta ad ovest, diciamo che lui aveva tutto questo impero da est a ovest, quindi aveva metà Europa e tutta la parte dell'America. Per questo si diceva che l'impero di Carlo V non tramontava mai. Però, essendo così basso, è chiaro che l'impero è molto difficile da gestire, perché ha molti territori da controllare. E inoltre, proprio perché i nemici attaccano nei confini, Carlo V deve fronteggiare una lotta contro i turchi che minacciano di insediarsi in Europa. Deve fronteggiare delle guerre in Italia per mantenere i possedimenti e, inoltre, possiamo vedere che c'è anche un problema che deve affrontare Carlo V, che è la spaccatura religiosa dell'Europa a causa della riforma protestante. Ma, nonostante questo, Carlo V deve anche ampliare, vuole ampliare i possedimenti in Italia. Lo Stato che cambia dal punto di vista politico, ma cambia anche dal punto di vista economico, cioè nasce lo Stato moderno. Quali sono le caratteristiche? Allora, abbiamo detto innanzitutto che, diciamo, ovviamente nasce lo Stato moderno, questo è il punto di vista politico, questo è il punto di vista economico. Cambia da questi due punti di vista. Abbiamo detto che le caratteristiche delle monarchie nazionali sono il fatto che ci sono dei burocrati che svolgono delle funzioni, ma la seconda caratteristica è che gli Stati hanno dei confini ben definiti, che sono questi, che si difendono attraverso un esercito permanente. E questo dell'esercito permanente è una grande novità, perché l'esercito non serve solo per difendersi, ma in questo caso possiamo vedere che l'esercito è utilizzato anche per aumentare, ampliare i propri confini. E, a proposito dell'esercito, terzo punto, l'esercito è costituito da professionisti addestrati, quindi non si forma solo in caso di guerra, ma c'è anche in caso di pace. Quindi, mentre prima, diciamo che l'esercito veniva formato nel momento del bisogno, adesso ci sono proprio degli stipendiati. Infine, possiamo vedere che lo Stato passa da una persona all'altra per vie ereditarie. Queste sono un po' le caratteristiche delle monarchie nazionali. Una quinta caratteristica della monarchia nazionale, cioè lo Stato moderno che si forma in Europa, sta nel fatto che in Europa occidentale si forma lo Stato moderno. Invece, che cosa succede? Che nell'Europa orientale, invece, continua ancora la monarchia feudale. Quindi, il sovrano in Europa orientale accentra il potere nelle proprie mani e la nobiltà, quindi, non ha alcun potere in questa parte orientale. E il sovrano, sempre nella parte orientale, non riesce più di tanto da centrare il potere nelle proprie mani e quindi la nobiltà continua ad avere parecchio potere. Possiamo vedere che il centro del potere è la corte formata da re e dai suoi aiutanti più stretti. E questo avvenne nel palazzo dove risiede il re. Però poi, per amministrare nello Stato moderno tanti territori così vasti, occorrono dei burocrati che si specializzano nella discussione delle tasse, che si specializzano nella giustizia e nella finanza. Quindi, riscuotono le tasse e poi stabiliscono come spendere questi soldi. Questi funzionari pubblici venivano proprio formati all'interno delle università e provenivano, ovviamente, dalla nobiltà. A questo punto, però, possiamo vedere che gli stati nazionali, quali la Francia, le monarchie nazionali e la Spagna, vogliono espandere i propri confini e quindi mirano ad acquisire l'Italia, che è molto frammentata. Quindi, che cosa succede in Italia? Che nel 1454 c'è la pace di Lodi. Viene firmata e questa pone fine a una lunga serie di conflitti tra tutti gli stati italiani e la pace di Lodi propone quindi una tregua e il fautore è Lorenzo dei Medici. Ma nel 1494, quindi, dopo 40 anni, tuttavia, questa pace è interrotta quando la Francia, che è guidata da Carlo VIII, inizia una campagna per conquistare il Regno di Napoli. A questo punto andiamo a vedere quali sono le tre fasi delle guerre all'interno dell'Italia. Allora, la prima fase, che va da 1494 al 1516, finisce con la pace di Noyon e assegna il Ducato di Milano, che è in questa parte qui su, alla Francia, mentre il Regno di Napoli continua ad essere sotto il controllo della Spagna. Nella seconda fase succede che Carlo V, che è salito al potere come re di Spagna, grazie a quei matrimoni, ed è anche imperatore del Sacro Romano Impero. E quindi, che cosa succede qui? Che nel 1527, i mercenari Lanzichenecchi, che erano al servizio di Carlo V, iniziano a saccheggiare brutalmente Roma. Che cosa significa questo fatto? Significa che il potere temporale della Chiesa è messo in discussione e quindi la guerra, nella seconda fase, si conclude con la pace di Cambrae nel 1529, dove Carlo V viene incoronato re d'Italia. Quindi, il Ducato di Milano passa alla Francia, la Spagna aveva l'Italia meridionale, ma che succede? Che sempre Carlo V, che possiede anche la Spagna, attacca direttamente Roma e viene incoronato re d'Italia. Nella terza fase delle guerre in Italia, succede che Carlo V nel 1555 lascia il trono. Quindi, che cosa succede a questo punto? Che i ripossedimenti della Spagna, quindi il trono di Spagna, vanno a suo figlio Filippo II, che quindi si prende la Spagna. Mentre la corona imperiale, quindi il Sacro Romano Impero Germanico e la Germania, passa al fratello Ferdinando, che quindi prende il Sacro Romano Impero Germanico. La guerra si conclude nel 1599 con la pace di Cato Cambriè, che confermò il dominio spagnolo sul Ducato di Milano e il sud Italia e segnando definitivamente la fine dell'influenza francese sull'Italia. Quindi, Filippo II riprese immediatamente le osterità contro la Francia per consolidare il controllo della Spagna sull'Italia. Quindi questo è quello che stavamo dicendo e la guerra si conclude nel 1559 con la pace di Cato Cambriè, che conferma il dominio spagnolo sul Ducato di Milano e sul sud Italia. Quindi la Spagna viene eliminata da questo punto di vista. Quindi possiamo immaginare questa slide in questo modo e quindi Carlo V si prende tutta la Spagna. Ricapitolando, terza fase, allora Carlo V spacchetta tutto tra Spagna con suo figlio e la Germania con Ferdinando. Poi Filippo II quindi che cosa fa? Va contro la Francia la caccia dal Ducato di Milano e con la pace di Cato Cambriè praticamente la Spagna si prende anche il Ducato di Milano oltre il sud dell'Italia. Durante le guerre l'economia entra in crisi la produzione agricola e manufatturiera diminuisce drasticamente. Poi finita la guerra invece riprende l'economia. l'Italia in questa fase di ripresa si specializza nelle industrie di lusso come la produzione di tessuti e questo fu anche un periodo in cui c'è un'espansione economica del settore bancario.